Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di Minecraft dedicato alle curiosità. Quest'oggi vi mostrerò alcune curiosità che riguardano i delfini. Detto questo vi auguro buona visione. Il delfino è il nuovo mob introdotto nell'aggiornamento 1.13. Questa adorabile creatura vive nei biomi oceanici ad eccezione di quelli ghiacciati. Nuotare insieme ai delfini fornisce un effetto benefico chiamato grazia del delfino che permette di nuotare più velocemente. Come sapete i delfini sono creature molto simpatiche e su Minecraft a loro piace giocare con gli oggetti che galleggiano in acqua. I versi emessi dai delfini in Minecraft provengono direttamente da delfini veri. Come i lupi e i pigmen anche i delfini agiscono in gruppo di conseguenza attaccheranno tutti insieme. Mi raccomando fate attenzione a non attaccarne uno. Il delfino in Minecraft può annegare, questo perché solitamente resta sott'acqua per due minuti, dopodiché deve tornare in superficie a respirare. Nel caso in cui invece si dovesse trovare fuori dall'acqua rischierebbe il soffocamento dopo due minuti. L'unica cosa che potrebbe salvarlo in questo caso sarebbe la pioggia. Sfamando i delfini con il merluzzo o il salmone crudo ci farà guadagnare la loro fiducia e infatti ci condurranno nei pressi di relitti marini e navi abbandonate. E siamo giunti alla fine di questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e vi consiglio anche di seguirmi sui social come Telegram e Instagram che troverete in descrizione o sotto nei commenti. Oltre a questo vi lascio anche il mio canale Twitch dove vado in live tutte le sere dalle ore 21. Da Gioco Sporco è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!